Vi faccio vedere come ci si tagli i capelli a Tokyo Mi guarderò un po' strano perché dirà Ma come supporti sti capelli? Assorted International Hair Salon Che la prima volta uno dice Ma veramente è qui giù? Sì sì è qui giù Però è uno scantinato Poi dentro è molto bello Adesso è qua che mi taglia tutto Cioè se riesci a tagliarmi A farmi dei capelli decenti a me Vuol dire che proprio è bravissimo Thank you See you next time Assorted a Cuba Ha un cesso Anche se gli cambi le piastrelle Rimane sempre un cesso Però l'Italia Cioè capito?